Ciao a tutti, qui è Darkdexter08 che vi parla. Prima di farvi vedere un video che ho registrato oggi pomeriggio, voglio dirvi solo una brevissima cosa. Da stasera, oltre a questo, ho intenzione di caricare tutti i video degli scambi che ho fatto attraverso la posta. Per la precisione caricherò un video a sera, visto che ormai ho collezionato 5 video, ho già registrato 5 video di 5 scambi diversi. Quindi la mia intenzione è cominciare oggi a caricarne uno e poi i prossimi giorni a caricarne uno a sera, sperando di farcela, visto che col weekend potrei essere un pochino impegnato. Mi dispiace di non aver caricato niente l'ultima settimana, come avevo scritto in quel video che ho cancellato, ho avuto qualche piccolo problema tecnico con computer e altro. Però adesso sono tornato in attività e quindi ricomincio. Ok, detto questo, adesso vi lascio la seconda parte del video. Eccomi di nuovo, ho colto l'occasione di queste 5 buste che mi sono state regalate oggi oggi per essermi appunto connesso al gioco, per dirvi che appunto ho ricominciato a giocare col gioco online di carte di Pokémon. Però vi chiedo di non cominciare subito a mandarmi richieste di amicizia, richieste di scambio o quant'altro, perché non ci gioco da più di un anno, da quando era ancora in versione beta, quando praticamente era impossibile giocarci perché la grafica era completamente andata, e quindi devo riprenderci la mano, capire tutta la nuova schermata, la nuova struttura del gioco, e soprattutto con tutti i box che ho aperto ho decine e decine di codici da riscattare, nonostante qualcuno me lo tenga da regalare. Oltretutto, come starete per vedere, ho anche trovato qualcosa di più che interessante nelle buste, come state vedendo qua ho trovato Tundurus EX, e quindi appunto, ripeto, ho colto questa occasione per farvi questo piccolo annuncio, però ripeto, ribadisco, non aggiungetemi per ora, farò un video nel prossimo futuro, spero entro a fine ottobre, o al massimo a fine ottobre, per dirvi che ci avrò ricominciato sul serio giocare, quindi se volete aggiungermi per fare scambi, partite o altro, da quel momento potrete farlo. A questo punto adesso non ho altro da dirvi, vi lascio con i trani ex full art che ho trovato, noi ci vediamo al prossimo video, che come ho già detto sarà il primo video di Trading Car by Mail, ci vediamo!